Settimana decisiva per la questione autostrade a 24 e a 25 per l'avvio del tavolo di confronto tra il ministero e il comitato dei sindaci che lottano contro il caro pedaggio e per la messa in sicurezza delle infrastrutture di collegamento. Entro il 31 maggio si sarebbe dovuto tenere l'incontro, poi slittato e la convocazione dovrebbe avvenire ormai a brevissimo giro a giorni. Il tempo però stringe e i sindaci vogliono certezze. La loro lotta del resto va avanti dal 2018. Il comitato in tutto questo ha dovuto dialogare con vari ministri e ricominciare un po' tutto da capo. Non si contano le manifestazioni a Roma e gli interventi che però non hanno portato finora una soluzione definitiva. Grazie alla loro testa dura però si è ottenuto almeno il congelamento delle tariffe. Ovviamente il comitato che oggi raccoglie circa 118 componenti tra amministratori di Abruzzo, Lazio e associazioni di categoria insiste su una risoluzione definitiva della vicenda, altrimenti i sindaci sono pronti a nuove mobilitazioni. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo sono in attesa della convocazione da parte del Ministero dei Trasporti. Il nuovo incontro dovrebbe essere imminente entro questa settimana secondo gli accordi presi in precedenza. Questo dovrebbe essere anche il primo tavolo tecnico davvero operativo nel quale iniziare a discutere dei nuovi progetti previsti per la sicurezza e anche delle nuove iniziative che si vogliono intraprendere per arrivare alla riduzione dei pedaggi.